Microsoft 365 ci permette di condividere file in più posti, ad esempio Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, ma come faccio ad avere un luogo comune dove visionare tutti questi file senza impazzire a capire su quale sistema ho utilizzato e ho ricevuto i file? Basterà andare sul portale di Office, quindi andiamo sul browser, digitiamo office.com, ci leggiamo con le nostre credenziali e poi andiamo sui miei contenuti, sulla scheda dei miei contenuti. Qui potremo trovare tutti i file che vengono condivisi infrasistema, quindi qui tutti i file, i file aperti di recente, i file messi solo nel cloud, gli allegati, quelli in locale, e abbiamo una fantastica scheda dei preferiti dove possiamo memorizzare i file di nostro interesse. Per mettere qui un file basterà andare nella scheda ad esempio Tutti, andiamo a destra del file che ci interessa, premiamo sui tre puntini e clicchiamo sulla voce Preferiti. Così facendo ecco che il nostro file apparirà all'interno di questa folder.